Un vecchio proverbio asiatico afferma siediti sulla riva del fiume e aspetta che prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Beh, dopo ieri sera possiamo dire sicuramente Juventus 1, procura di Torino 0, il processo è stato spostato da Torino a Roma dove si sono svolti i fatti come la Juve aveva chiesto, come tante volte è stata sbugiardata la procura di Torino, quando erano stati chiesti gli arresti, ve lo ricorderete, del presidente Agnelli, di Padevel Nedved che sono stati poi rigettati, per non parlare poi dei mezzi costosissimi, esageratamente sofisticati come le intercettazioni ambientali per indagare sulla Juve, laddove per esempio le procure di Genova e di Bologna avevano detto chiaramente che non c'era assolutamente nulla perché dico procure di Genova e di Bologna, perché tra le varie plusvalenze di cui era stata accusata la Juve erano stati fatti casi di scambi con giocatori con Genova, con Genova, chiedo scusa, e Bologna quindi se da una parte c'è una cosa le plusvalenze non si fanno da sole, ecco, quindi ieri sera lo so che poi sul campo è già stato tutto deciso, la Juventus ha pagato anche oltre, oltre, oltre quello che avrebbe dovuto pagare, chiedo scusa, però ecco ieri sera c'è stata questa vittoria che secondo me non è platonica, perché purtroppo tante volte bisogna avere tanta pazienza, bisogna aspettare ma come in questa circostanza poi le cose saltano fuori, le cose emergono. E in un periodo in cui non ci stiamo purtroppo evidenziando per grandi successi sul campo, non parlo solo di trofei ma sto parlando anche un pochino di immagine, ecco perché ho messo alle mie spalle i gloriosi loghi della Juve, ecco che arriva secondo me qualcosa di più di una soddisfazione, qualcosa di più. Processo spostato da Torino a Roma, procura di Torino ritenuta non competente, e dunque round, un round pesante che va a vantaggio della Juve.